e vediamo andar via la postazione ciao ciao volevi beccarmi con un titolo clickbait invece no la mia postazione la regalo è la fine di un'epoca perché l'ho presa quando nessuno credeva nelle postazioni in alluminio e in questo caso ragazzi la regalerò ma come dico sempre banda le ciance sigla ciao ragazzi io ho creduto nelle postazioni d'alluminio fin dagli albori fin dalle prime volte che in america avevo visto dei progetti dei primi progetti di ragazzi che hanno voluto creare in un modo diverso le loro postazioni qui in italia ancora si vendevano tubolari piastre di ferro cose allucinanti a dei prezzi molto alti e visto che ho una forte passione per quello che riguarda il mondo del sim racing ma anche nel costruire decisi di iniziare a progettarmi carta e penna quella che era la mia postazione e ordinai tutti i pezzi su motedis all'epoca non c'era la scelta che c'è oggi a livello di componentistiche e ho cercato di ricrearmi in qualche modo quelle che erano delle postazioni dei progetti che avevo visto dall'america andandomi a creare intorno a me un progetto su misura e in quel momento anche un po per inesperienza comprai tantissime congiunzioni in più rispetto a quelle che servivano comprai congiunzioni esageratamente grandi doppi blocchi anche sulla parte del ponte volante l'ho fermato sia con dei blocchi laterali con sia con delle piastre effettivamente a distanza di 5 6 anni adesso non ricordo nemmeno quanto tempo fa l'ho progettata e realizzata ancora devo dire che se la batte tranquillamente con gli ultimi prodotti e poi mi direte allora perché te la dai via? me la do via ragazzi perché si svilupperà tutto un nuovo progetto che in realtà ha rapito la mia mente e anche in parte il mio cuore non voglio dirvi troppo ma a breve vi dirò tutte le novità che come sempre in parte riguardano anche la possibilità per voi di accedere a dei piccoli sconti detto questo comunque volevo dare l'ultimo saluto a quella che è la postazione che mi ha seguito per tanti anni in tante gare in tantissime recensioni e in molti casi anche degli stravolgimenti che ho voluto fare per andare a cambiare il posizionamento di alcune componenti perché si andavano aggiungere ad aumentare e naturalmente i progetti in alluminio danno ottime ottime possibilità di andarsi a cucire come uno meglio crede quella che è la propria postazione ma soprattutto andare ad impostare nel modo migliore la postura più la postazione è libera di poter muovere qualsiasi componente nel modo che voi preferite e più riuscirete a trovare la posizione più corretta e aumenteranno in automatico anche le vostre prestazioni aumenterà anche il modo in cui potrete sfruttare il vostro hardware più la postazione è solida più le vostre periferiche verranno sfruttate nel modo corretto sia per quanto riguarda le basi soprattutto basi potenti perché non sono soggette a micro oscillazioni che vanno a mangiarsi un pochino quello che è il dettaglio ma soprattutto anche con le nostre pedaliere con celle di carico sistemi idraulici che si avvicinano quasi anche ai 100 kg di pressione che andiamo a fare con il pedale del freno ben posizionati e con un prodotto che ci consente di utilizzarla al meglio le sfrutteremo alla loro massima potenzialità naturalmente durante questo video cercherò di farvi vedere dei piccoli video per farvi vedere le parti alcune piccole parti un po più nel dettaglio di quello che è stato questo progetto questo perché voleva integrare anche la parte pc mi sono creato un sistema dietro per poter appoggiare il pc averlo tutto insieme nel mio angolo simulazione e spero che apprezzate e per arrivare poi al succo del video come ho detto regalerò questa postazione a un mio carissimo amico è praticamente tra le prime persone che ho conosciuto quando ho iniziato questa nuova avventura nel sim racing quando in realtà era appassionato prettamente al mondo reale venivo in realtà da un paio d'anni di kart ebbe un incidente e piano piano inizia ad appassionarmi ai primi simulatori è tra gli amici di più vecchia data che ho in questo mondo so che lui ha una postazione un po così che se anche lui ha auto costruito ma sicuramente non di questo livello e mi faceva tantissimo piacere fargli questo regalo naturalmente rimanete sintonizzati per vedere quali saranno le novità e quale sarà la fantomatica postazione che ho scelto per il mio angolo di simulazione che ci accompagnerà per tutte le future recensioni e continuo sempre a ringraziarvi perché fondamentalmente i co protagonisti in questa avventura siete anche voi e vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao